fuori ci sono misteri da scoprire la leggenda è vera enigmi indecifrabili da risolvere quindi è una mappa per trovare la metà della mappa che porta al tesoro e avventure incredibili da vivere e ora che cos'è quello allaccia le cinture e preparati a un canale pieno di emozioni brividi e colpi di scena pronto a scoprire la verità super misteri ora su pluto tv oggi esistono solo gli estremi ora pensi in un modo o nell'altro o stai da una parte o dall'altro come se tutto ciò che c'è in mezzo non ci interessasse più ma dialogare è diventato impossibile ho provato a farlo su alcuni temi di attualità e il risultato è the road of life in italy da mercoledì 23 novembre alle 22 in prima visione su comedy central questo qua è il nostro sentimento è del buon Grazie per la visione! Grazie per la visione!